Otto progetti di design sperimentale riuniti nella mostra Disagevoli Ozzi saranno ospitati in uno spazio di eccezione nel Salone del Mobile Imbottito a Milano da venerdì prossimo. I prototipi sono frutto del laboratorio MIM Design District di Matera che si è concluso a gennaio coinvolgendo 45 tra giovani designer, professionisti e artigiani imprenditori del distretto del Mobile Imbottito e 45 studenti della Facoltà di Design del Politecnico di Milano presenti a Matera. Il vernissage milanese di Disagevoli Ozzi si colloca in un evento tra i fuori salone, una serie di appuntamenti molto attesi sia dalle riviste di settore che dal mondo dei designers. Presidente, quanto è importante il design in un momento di crisi del comparto del mobile imbottito? Beh, diciamo che ha una valenza estremamente rilevante, soprattutto in un momento come questo dove noi dobbiamo alzare la sticella della competitività. Con i prezzi noi siamo perdenti e quindi abbiamo bisogno di stabilire quali sono le regole per il commercio a livello internazionale. Abbiamo una cartina di tornasole estremamente importante. Il Made in Italy si vende da tutte le parti. Poter lavorare e incidere maggiormente su questo settore vuol dire riacquistare o avere maggior padronanza di quella che è la fetta di mercato che a noi interessa. Grazie a tutti.